Il Consiglio d'Amministrazione di Alitalia ha approvato la revisione del piano industriale al termine di una giornata in cui si sono svolte le proteste dei lavoratori. Slitta il 27 novembre la scadenza per la sottoscrizione dell'aumento di capitale, in attesa della ratifica dell'investimento da parte di poste italiane e per dare tempo all'arestia Air France. I lavoratori con le bandiere dei maggiori sindacati hanno tenuto un sit-in di protesta a Fiumicino. C'hanno grosse responsabilità tutti i managgimenti di questa azienda ma anche il governo. Il governo non può pensare che dà sonvenzioni, qualche cosa e poi se ne lave i mani. Noi non possiamo essere ostaggi dalle Franze che la Franze non fa il bene né dell'Italia né dell'Alitalia. Si teme infatti l'applicazione del piano di esuberi di 2.000-3.000 dipendenti e il taglio agli stipendi. Il CDA ha fatto sapere che sono stati tenuti in considerazione i lavoratori e le loro famiglie, ma anche che il piano si basa su una severa riduzione dei costi.